i segni zodiacali e soldi allora riprendiamo se i zodiacali e soldi riprendiamo dal segno del capricorno quindi partiamo dal segno del capricorno e vediamo come vanno le cose per il segno del capricorno quindi il segno del capricorno, segni zodiacali e soldi allora mi raccomando fate pure donazioni al canale perché portano bene ricordate di fare donazioni al canale ci sono i tastini delle cose perché è dando che si riceve se fate i tirchi sarete poveri, sarete poveri in canna vediamo i soldi, i soldi dell'amore non ci interessa niente vediamo i soldi per il segno del capricorno allora come vanno i soldi per il segno del capricorno? allora, beh c'è abbondanza quindi il segno del capricorno sta andando molto bene e può vivere una situazione di abbondanza quindi abbondanza per il segno del capricorno molto importante l'abbondanza per il segno del capricorno quindi un periodo che le cose stanno andando bene viviti la vita caro segno del capricorno momento per momento è molto importante quindi questo è un punto molto importante per il segno del capricorno è una situazione che si svilupperà si svilupperà e porterà grandi grandi vantaggi grandi benefici per il segno del capricorno vediamo un attimino anche sempre per il segno del capricorno ringrazio Paolo quindi donate, donate le streghe sono tornate andiamo avanti col segno del capricorno vediamo come vanno le cose per il segno del capricorno da un punto di vista delle relazioni sentimentali c'è un cavaliere di spade Elisabeth Grazio c'è un cavaliere di spade che significa che il cavaliere non è il re diciamo ma riuscirà a fendere a fendere tutto e andare avanti c'è anche il papa quindi il segno del capricorno avrà grandi possibilità da questo punto di vista quindi il capricorno diciamo attraverso un periodo di abbondanza bene, siamo contenti per il segno del capricorno e passiamo, passiamo al segno dell'acquario quindi passiamo al segno dell'acquario vediamo se ci saranno soldi per il segno dell'acquario cerchiamo di capire il segno dell'acquario se avrà money o seppure sarà un segno che dove le cose andranno andranno a cazzo diciamo tanto donate pure al canale così seguitemi su Instagram Facebook ovviamente YouTube mi raccomando seguitemi su YouTube perché potrete ottenere grandi grandi risultati vediamo che ci dice per quanto riguarda il segno dell'acquario allora vediamo per quanto ci dice per il segno dell'acquario per quanto riguarda i soldi sta raggiungendo la maturità quindi il segno dell'acquario è un periodo in cui raggiungerà la maturità raggiungere la maturità vuol dire che anche la maturità finanziaria è importante non farà più scelte avventate perché spesso per il segno dell'acquario ci sono scelte avventate che vengono fatte imparerà una nuova visione della vita quindi il segno dell'acquario sta crescendo da questo punto di vista non è indipendentemente dall'età stringerà anche rapporti di amicizia con persone nuove che potranno portare nuove situazioni diciamo nella vita questo è importante e bene sono contento per il segno dell'acquario perché attraverserà un periodo di rinascita quindi anche economicamente riprenderà diciamo il riprenderà un po' le varie possibilità quindi il segno dell'acquario non sta andando male da questo punto di vista è un segno che porterà vediamo ancora la pressione dell'acquario utilizzando i tarocchi di Marsiglia ricordo che la tarologia francese è una delle tipi di tarologia più antiche d'Europa proprio con i tarocchi di Marsiglia che danno delle risposte anche molto molto concrete molto importanti i tarocchi di Marsiglia allora cerchiamo di capire qualche fastidio ci sarà quindi il segno dell'acquario dovrai superare qualche fastidio è molto importante ringrazia Liona e sì ci sono un po' di problemi ancora in sospeso per il segno dell'acquario che devi riuscire a superare devi riuscire ad affrontare perché se non li affronti ti tenderanno ad affossarti non disperdere qua viene fuori il 10 di coppe non disperdere le energie per quanto riguarda l'amore non disperdere le energie perché se disperdi le energie ce l'avrai in quel posto quindi evita di disperdere le energie in amore e alla fine avrai la vittoria perché il segno dell'acquario ci vengono fuori viene fuori nel mondo quindi il grande segno dell'acquario ottime possibilità ma passiamo al segno dei pesci vediamo come vanno le mani come vanno i soldi per il segno dei pesci se ci sono possibilità o no per quanto riguarda il nostro segno dei pesci il segno dei pesci è sempre un segno un po' particolare che talvolta ha chance talvolta non ha tante chance ma vediamo un attimino come se la passa il segno dei pesci da questo punto di vista vediamo il segno dei pesci come se la passa allora vediamo il segno dei pesci se la passa male la miseria il segno dei pesci ha avuto un buon periodo adesso purtroppo c'è una ricaduta quindi c'è una ricaduta il segno dei pesci sta attraversando un periodo un po' negativo un po' nero da questo punto di vista e purtroppo le cose non vanno bene quindi questo stress lo stress sta portando diciamo cose non buone insomma per il segno dei pesci ha avuto un periodo positivo comunque adesso come dire le cose stanno andando come stanno andando questo è da tenere presente vediamo un attimino ancora novità per il segno dei pesci vediamo se ci sono anche altre novità per quanto riguarda il segno dei pesci allora diciamo il re di spade dà comunque una voglia di riscatto quindi caro se uno dei pesci avrai la possibilità di riscattarti e questo per te è comunque fondamentale comunque importante qualche soldino di rimasuglio ti arriverà cerca di non fare cazzate insomma quindi se uno dei pesci deve stare un po' tranquillo bene ma andiamo avanti e quindi abbiamo concluso questo giro ma riprenderemo riprenderemo per quanto riguarda